Allenamento combinato! 6 esercizi dove su ogni esercizio allenerò tanti muscoli insieme. Andiamo! Ragazzi, pronti per questo allenamento combinato? Quindi ogni esercizio, sono 6 in totale gli esercizi, in ogni esercizio allenerò tanti muscoli insieme. Materiale necessario per questo allenamento sempre con me? Due manovri, il tappetino e il vostro sorriso. Mettimi like subito se accetti questa sfida. Intanto scaldiamoci, visto che è un combinato andremo subito anche sul riscaldamento a combinare braccia e gambe, quindi step touch e apertura e chiusura delle braccia e poi si parte. Ogni esercizio, 50 secondi, 20 secondi di pausa, nei 20 secondi così vi spiego l'esercizio successivo. Ragazzi, molto bello questo allenamento! Tanti esercizi combinati, eh! Sapete che a me piacciono molto, li pubblico spesso, il singolo. Oggi vi ho studiato un allenamento per allenare realmente tutto il corpo con 6 esercizi. 4! Scaldiamoci bene che poi partiamo subito. 3! 2! 1! Stop! Ok ragazzi, poi non vi sto a dire il solito discorso, ma se volete un allenamento personalizzato, mi inviate un'email a info-allenati-con-il-sorriso.it e lo facciamo insieme. Primo esercizio combinato, guardate, manovra la mano, scendiamo in squat e salgo su in curl-up. Guardate, lo faccio vedere lateralmente. Squat, quindi gambe, glutei, core, spalle e bicipiti. 3! 2! 1! Vai per 50 secondi. Squat, chiudo e su. 1! Squat, chiudo e su. Olè! Sorridi, eh! Scendi, eh! Con i manubri basso, vai! Giù e su. Ancora! Giù e su. Olè! Siamo partiti! Questo è il primo esercizio. Olè! Ancora! Vai! E... Bene! Vai! Ancora! Olè! Sì! Forza qui! Molto bello! Vai che questo è l'ultimo! Stop! Ok ragazzi, secondo esercizio. Le gambe sono belle aperte. Vado con la gamba destra. Vado a fondo incrociato e bicipite. Sempre la destra, ok? Sempre la destra fa questo. Bicipite e affondo lateralmente. 3, 2, 1. Andiamo! Qui! E torno al mio tempo. E torno, vai! Giù e su. Qui abbiamo glutei al lavoro. Bicipiti, core. Vai! Ancora! Gamba laterale, sempre la destra e apro. E le braccia fanno bicipite. Ancora! Vai che siamo al secondo! Olè! Olè! Con me! Giù e su! Tosto, eh! Tosto, eh! Vai! Sì! L'ultimo! Ok, pausa ragazzi! Stesso lavoro dall'altra parte, però questa volta. La gamba sarà la sinistra, ma non faccio più il bicipite, ma faccio le alzate frontali, ok? E torno. Frontali. E torno. Molto più faticoso. 3, 2, 1. Vai! Qui! E torni. Incrocia bene. E torni. Vai! Incrocia. E torni. Sì! Io ho due manubri da 4 kg ciascuno. È bello intenso, eh! Vai! Ok, ancora. Qui. E torna. Bene! Controlla bene l'addominale, stringilo forte per l'equilibrio. Vai! Ancora. Sì! Molto bene! È tosto, vai! Questo per pro, per i pro. Sì! Ancora! Ole! Gli ultimi due. L'ultimo! Forza, forza, forza! Ole, è andata! Allora, prossimo! Tosto, eh! Apri bene le gambe. Guarda, sono tutte belle aperte. I manubri appoggi. Una a destra e una a sinistra. Allora, prendi manubrio. Prendi manubrio. Lascia manubrio. Lascia manubrio. Ok? Tra pochi secondi per 50 secondi. 3, 2, 1. Prendi manubrio. Prendi manubrio. Lascia manubrio. Lascia manubrio. Prendi. Prendi. Guarda le gambe, quello che fanno. Lascia. Lascia. Prendi. Prendi. Lascia. Qui il dorsale lavora, eh! L'interno coscia. I glutei. L'esterno. Sì. Prendi. Prendi. Lascia. Lascia. E' che è il quarto, eh! Prendi. Lascia. Lascia. Prendi. Prendi a tosto. Lascia. Prendi. Prendi. Lascia. Stop! Haha! Com'era questo? Bello e tosto. Tappetino, ragazzi! Tappetini. E un manubrio, se l'avete come me pesante da quattro, se no, due manubri, uno per mano. Allora. Combinato, qua. Gluteo. French. E torno, ok? 3, 2, 1. Ponte. French. E torni. Ponte. French. E torni. Anche questo è il penultimo. Eh! Sì, e giù. 1, 2, ancora. Sì. Vai. 1. Ok, vai. Bene. 1, 2, 3. E giù. 1. Sì. Bene, anche i tricipi al lavoro. Sì. Ancora. 1. Ancora. Su. L'ultimo. Ok, l'ultimissimo. Pettorali. E addominali, ragazzi. Da qua, da questa posizione, tutti e due manubri. Altezza petto. Apro in croce e porto su le gambe alternate. 1 e 2. Quindi attivo sia addominale che pettorali. 3, 2, 1. Si va. Allenamento un po' diverso dal solito oggi. Sono stato anche molto concentrato io. Come avete visto. Ho cercato di rimanere sul pezzo. Perché era fondamentale farlo bene. L'ho fatto bene. Voi l'avete fatto bene? Fatemelo sapere nei commenti. Vai ancora. Prendo aria. Fuori. Prendo. Fuori. Prendo. Fuori. Bene. Croce. Apro bene. Porto sulle gambe. Dai che sono gli ultimi secondi. E avete fatto qualcosa di diverso, eh? Un bellissimo allenamento combinato. Eh. Petto. E addome. Vai. Ancora. 3, 2, 1. 1. E stop, ragazzi. Un bell'applauso. Complimenti per aver portato al termine questo allenamento combinato. Ne volete altri? Io ho tante idee su questi allenamenti combinati. Ne potrei preparare a bizzeffe. Detto questo, io vi ringrazio. Vi ricordo. Like, commento, salvataggio. Indirizzo email. Info chiocciola. Allenati con il sorriso. E io vi do appuntamento al prossimo workout. Non puoi mancare. Non puoi? Alla prossimità. Oh, disperare.